Salve a tutti ed eccoci qua, primo emiciclo quotidiano, emiciclo striscia, quindi durerà pochi minuti. Vi prego cortesemente di non porre domande in diretta perché non avrò il tempo materiale di rispondervi, però ho il tempo materiale in questi 5-6 minuti di parlare di quello che secondo me è l'argomento del momento. E qual è l'argomento del momento? Ovviamente il Partito Democratico. Il balcone di Di Maio ha fatto il miracolo, attitolato ieri l'Huffington Post, che è successo che in una domenica pomeriggio assolata in una Roma abbastanza dormiente, il Partito Democratico si è ritrovato in piazza. Ora, un giudizio spassionato, la manifestazione è andata bene, lo dico da osservatore esterno, la manifestazione mi è piaciuta, è andata bene, ha avuto circa 25-30 mila partecipanti, quindi non è stato un flop. Di chi è la frase il balcone di Di Maio ha fatto il miracolo? Della consorte, della compagna di Fausto Raciti. Fausto Raciti, ex segretario dei giorni democratici, ex segretario della Sicilia, attuale parlamentare del Partito Democratico, giovane turco vicino a Matteo Orfini. Diciamo che la compagna capisce di politica ben più di lui, non è stata il bisogno di unità, è stata la manifestazione secondo me, è stato il balcone di Di Maio. Nel senso che quella sceneggiata di giovedì notte, con il falò delle vanità del leader grillino, ha prodotto una reazione, perché certamente a me ha ricordato più Antonio Latrippa, ma a molti ha ricordato comunque nefasti momenti della nostra vita nazionale, e quindi diciamo che la democrazia del balcone ha risvegliato in tutti un desiderio resistenziale che nel Partito Democratico era abbastanza sopito negli ultimi mesi. Com'è stato Maurizio Martina? Lo ripeto per l'ennesima volta, Maurizio Martina è un bravo uomo, diciamo le cose come stanno. Maurizio Martina ha fatto quello che poteva. Maurizio Martina ha detto chiaramente che bisogna tornare a Corbyn, bisogna tornare a sinistra, ci vuole unità, ha detto che bisogna guardare avanti, che bisogna stare insieme, ci ha detto tutte cose pienamente condivisibili. Se uno volesse muovere un piccolo appunto a Maurizio Martina, potrebbe dirgli scusa Maurizio, ma questa dotta analisi e questa dotta riflessione, perché non l'hai formulata? Non dico quattro anni fa, perché quattro anni fa ci poteva pure stare. Non sono stati pochi quelli che si sono fatti prendere dalla smania rinziana, e io non voglio nemmeno stare a farla da ammanazio memorie. Però Maurizio, visto che l'hai vissuto dall'interno, perché tutto questo meraviglioso discorso non lo hai fatto un anno e mezzo fa? Quando invece di dire le stesse cose ti sei andato a candidare insieme a Matteo Renzi come vice segretario, in un'avventura che sapevi benissimo come sarebbe andata a finire, perché se non lo sapevi, beh, allora non sei adatto a guidare nulla. Se lo sapevi, allora mi dispiace dirlo, ma sei stato il suo vice disastro, per usare un'espressione tanto cara al nostro Attila di Firenze. Attila di Rigliano sull'Arno, che peraltro ieri era in piazza, insieme a Maria Elena Boschia, tutta un'altra serie di responsabili del disastro in cui è andato incontro il Partito Democratico. Voi lo sapete benissimo, lo sapete benissimo, che continuano a rivendicare tutto quello che hanno fatto, non cedono su di un millimetro, giusto al Jobs Act, giusto alla Buona Scuola, giusto allo Sblocca Italia, giusto all'Italicum, giusto alla Riforma Costituzionale, sono gli elettori che non ci hanno capito, è la contingenza, è il momento storico che è quello che è. E ho capito. Così facendo non si va lontano. Corbyn non basta citarlo, bisognerebbe anche praticarlo, come bisognerebbe praticare Sanders, come bisognerebbe praticare Liz Warren, però ci vuole tempo. Diciamo che l'analisi migliore, secondo me, l'ha formulata Michele Mezza, che ieri era in piazza, che ha detto chiaramente, è una rappresentazione da PD del 15%, purtroppo, cioè coppie del centro storico, una spruzzatina di movimentismo, diciamo, di alto livello, un po' di società civile, un po' di passione, molta militanza, pochi giovani, insomma, è un partito arroccato, che invoca l'unità per disperazione, che cerca in qualche modo di rimettersi in cammino, che forse anche nel suo corpaccione ha capito che la stagione renziana deve essere archiviata rapidamente, che cerca un'unità sinistra, ma unità molto, molto difficile, perché comunque il rancore, le scorie, i fastidi sono tantissimi, e che in qualche modo sta tentando di darsi un futuro. Il piccolo problema è che in piazza c'era anche un signore di nome Carlo Calenda, il quale ieri dall'anno si è da ribadito per l'ennesima volta che per lui il PD va superato. Cioè, Calenda è un personaggio simpatico, che si è iscritto al Partito Democratico dopo il disastro, e da quel momento in poi ci ha fatto sapere di continuo che per lui il PD non serve a niente, che è un vecchio rudere, che lui vuole una soluzione alla Macron praticamente, che vuole sciogliere tutto e fare altro. Ma allora Carlo, non è che te l'abbia prescritto il medico di iscriverti a un partito, sei tu che ci sei andato, sei tu che te li sei andati a cercare. A me sembra anche irrispettoso sinceramente che un leader politico entri in un partito per sparargli addosso tutti i giorni, quotidianamente, dicendone di tutti i colori, dicendo che quel partito è finito, dicendo che quel partito è superato, cosa che è anche probabile. Ma allora non ti iscrivi al PD però, allora non prendi la tessera di un partito che consideri finito. Diciamo che c'è una contraddizione in termini nel calendismo che secondo me è la cifra anche della sua pochezza politica, diciamo le cose come stanno. C'erano anche Zingaretti e Del Rio dati per possibili sfidanti, dunque Zingaretti mi dà l'impressione nella disperazione di essere un eroe della ritirata, comunque uno che ci potrebbe anche provare. Del Rio mi è sembrato spento, ma sorpreso Del Rio, anche in negativo, pensavo che ci avesse più verve, invece secondo me non aveva quasi più nulla da dire, diciamo che è stato il renzismo gentile, ma anche lui è troppo responsabile della situazione. Infine voglio chiudere questa prima diretta con una riflessione su un dato fornito dal professore Ilvo Diamanti. Il dato del professore Ilvo Diamanti dice chiaramente che il politico più apprezzato dagli italiani è Sergio Mattarella, con il 65%. Che significa questo? Significa che se il politico più apprezzato è Mattarella, anche in una stagione triviale come questa, anche in una stagione forcaiola, anche in una stagione sovranista, lo spazio per un'idea di politica pulita, onesta, sincera, condotta con sobrietà, ci sarebbe e come? Ci sarebbe e come? Il problema è trovare il modo di trasformare quella che può essere un'intuizione o una speranza in un progetto concreto. Ce la può fare questo PD? E questo è il dato dei prossimi mesi. Bisognerà capire se Zingaretti si vuole candidare a guidare il PD per quello che è attualmente o se vuole rifondare il centro-sinistra e se le due cose sono compatibili. Se dovessi dire un'opinione personale, io dico che le due cose sono difficilmente compatibili. La dico così. Però, penso anche che con una buona parte del Partito Democratico che ieri era in piazza, con una buona parte dei dirigenti e soprattutto con una buona parte dei militanti e degli elettori di quel partito, da sinistra si debba tornare a discutere e a fare qualcosa insieme. Unità, unità, sì. Che non sia di facciata, però.